Cari amici, il 2 giugno è una data fondativa della Repubblica Italiana, un momento che definisce la storia di tutti noi. 75 anni fa gli italiani e le italiane si recavano alle urne per scegliere nel referendum costituzionale tra monarchia e Repubblica. E 75 anni dopo l'Italia è diventata una democrazia moderna, prospera e sviluppata, un protagonista di primo piano della scena internazionale. Durante tutti questi anni l'Italia, come ogni democrazia, ha dovuto superare delle sfide particolarmente difficili e delicate, ma lo ha fatto sempre in maniera brillante. Una sfida particolarmente dura è stata quella posta dalla pandemia, che l'anno scorso ha colpito l'Italia tra i primi paesi al mondo, comportando un costo altissimo in termini di vite umane e di ripercussioni negative sulla nostra economia. Oggi possiamo dire che grazie al sacrificio, alla dedizione e al senso di responsabilità di tutti gli italiani, la pandemia in Italia è oggi in fase di progressiva limitazione, grazie anche a un processo di vaccinazione che il governo italiano sta portando avanti a tappe forzate e che sta già evidenziando dei risultati particolarmente positivi. Ma l'Italia è soprattutto un protagonista della scena internazionale, un membro fondatore dell'Unione Europea, un paese che ha un ruolo di primo piano nel Mediterraneo, nel Medio Oriente e nel Golfo Persico, dove si trova l'Iran, il paese dove ci troviamo e che è alla vigilia di grandi e importanti scadenze, sia interne che internazionali, le elezioni presidenziali che si svolgeranno da qui a pochi giorni e il negoziato che è in corso a Vienna per la riattivazione dell'accordo nucleare. per la riattivazione dell'Italia. Per tutto il nostro paese, io mi piacere molto attraverso che il giallo dell'Italia che il giallo dell'Italia e l'Italia e l'Italia è molto attraverso. L'Italia e l'Italia è molto attraverso molto attraverso. L'Italia è stata un ruolo di scendio che sono arrivato in un'esperto di scendio. Questo è un'esperto di scendio di scendio di scendio di scendio e l'Italia. L'Italia e l'Italia è in questo momento da scendio di scendio di scendio di scendio. Alcuni italiani sono partiti in fronte del progetto e sanità di Iran e si sono partiti in progetti di un progetto importante e di un progetto importante di Iran. In questo periodo, la regione italiana e italiani e italiani e italiani hanno lavorato con l'amore e 60 anni che italiani e italiani e italiani hanno messaggiato la regione italiani e italiani e in ultimo, in la regione di islamo, Italia e Iran aveva un po' molto vicino e attrazione. Doviamo ricordare che il primo posto di Gharbi che ha fatto un presidente di islamo, in Italia, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.